A Gerri in questa settimana la maggioranza del sindaco Angelo Danna tornerà a riunirsi per decidere il da farsi nelle prossime settimane. Il primo cittadino insieme a Sara Giuffrida vorrebbe stilare con i consiglieri comunali le cose da fare nel breve termine. Questa settimana è inoltre prevista anche una nuova riunione di giunta dopo che la settimana scorsa l'esecutivo non si è riunito. Le scadenze finanziarie sono tornate centrali nel dibattito perché è rimasto in sospeso il bilancio di previsione 2016. Oggi pomeriggio il vice sindaco e assessore alle finanze Salvo Vitale sarà sentito in audizione della terza commissione consigliare permanente. Ufficialmente per i debiti fuori bilancio rimasti all'esame del consiglio comunale. Ma sicuramente il tema dello strumento finanziario preventivo sarà affrontato anche in sede di commissione. Nella data odierna le forze politiche chiedono ora chiarezza alla giunta per sapere quando si inizierà a esaminare il bilancio di previsione. Grazie a tutti.